Signor Presidente, autorità, amici, colleghi, proprio stamattina guardando le carte mi sono realizzato che questo è il sedicesimo incontro inquirinale in cui noi celebriamo questa festa sulla ricerca. E quindi ho realizzato che per 16 volte io sono venuto tutti gli anni a parlarvi della ricerca sul cancro, della diagnosi, delle terapie e così via. Quindi ho parlato già di tutto, ho spiegato tutto a tutti e credo quindi che dobbiamo adesso vedere un po' come polarizzarsi su nuove posizioni. Il fine, il destinatario di tutta questa ingente operazione che è la persona, che è l'uomo, che è la donna. Questo l'abbiamo sempre tenuto un po' sotto tono. E invece io credo che dobbiamo pensare alla medicina della persona. Avrete notato che non ho parlato dei pazienti né di malati, perché noi davanti a noi abbiamo la persona, nella sua globalità, con il suo carattere, le sue emozioni, il suo temperamento, le sue aspirazioni, le sue frustrazioni. Questa è la persona che noi dobbiamo conoscere se vogliamo curarla correttamente. E quindi credo che sia indispensabile recuperare qualche elemento dalla vecchia terapia olistica, che va andata da duemila anni avanti Cristo, sino da duicento anni avanti Cristo, sino ad oggi. C'è un vecchio tipo di medicina che considerava però il corpo umano inscindibile, considerava l'uomo. Poi nel Seicento invece sono iniziate, dal punto di vista medico, le autopsie. Abbiamo cominciato a capire che il corpo umano è una sommatoria di organi rinchiuse in un involucro, che era la nostra pelle. Ed è incominciata la terapia e l'analisi e la medicina d'organo, che ha avuto successi enormi naturalmente, perché si è approfondito per ogni organo, ogni cellula, ogni piccola frazione del nostro organismo, tutta una quantità di informazioni e cognizioni che hanno fatto raggiungere la medicina di oggi, l'avanzamento medico e scientifico di oggi. Però ha creato un'ascissione tra il corpo e la mente. Inevitabilmente polarizzandoci solo sugli organi, abbiamo un pochino tralasciato il tema del pensiero dell'uomo. Quindi bisogna, secondo me, in qualche maniera, nella medicina del futuro, ritornare un po' al vecchio pensiero platonico. Platonico diceva che bisogna curare l'anima per curare il corpo. Cioè, bisogna, l'anima in greco è la psiche, bisogna curare il pensiero, il cervello, il modo di sentire le cose. Perché? Perché quando una persona si ammala di un tumore in un organo, certamente ancora si può curare, si può eliminare, ma poi la malattia viene percepita ed elaborata qui, nel cervello, nel pensiero, e lì rimane a lungo. Io dico sempre, guardate ai miei colleghi, è facile togliere un nodulo al seno, è difficile toglierlo dalla mente. Li rimane per mesi, per anni, e fin quando non è completamente scomparso, la guarigione non è ancora realizzata. Noi vediamo la guarigione fisica, ma noi dobbiamo pensare anche alla guarigione a livello mentale della malattia. E quindi abbiamo, insomma, pensato che bisognasse instaurare un nuovo rapporto, bisogna che i medici si rapportino col paziente in una maniera diversa, in maniera più dialogante, più profonda, più conoscitiva, per avere la sua fiducia. La fiducia del paziente non si ottiene con una firma in un modulo di consenso informato. Quella non serve a niente. È una forma più, che serve più al medico per proteggersi da rischi del futuro, che al paziente stesso. Il paziente ha bisogno di sapere, di conoscere, ha bisogno di dialogo. E quindi io dico sempre che bisogna sapere ascoltare. Sapere ascoltare la forza dell'ascolto è incredibile nei rapporti tra medico e paziente. E' nata così la medicina narrativa. Nessuno sa di voi, probabilmente, cos'è la medicina narrativa. È una nuova branca della medicina, molto interessante. Perché il medico si mette vicino al paziente e chiede al paziente di narrare la sua vita, non i suoi sintomi, non i suoi disturbi legati alla sua vita. Perché noi, davanti a un paziente, dobbiamo sapere chi è quel paziente. Non possiamo curare il paziente come una persona, come cureremo il nostro cagnolino. Dobbiamo sapere chi è. E il paziente narra, narra dalla sua nascita, tutta la sua evoluzione nella vita, la sua giovinezza, le sue aspirazioni, le frustrazioni, tutto il suo senso della vita, il suo concetto della morte, e così via. E allora noi saremo dei buoni medici. Noi, conoscendo la persona che abbiamo davanti a noi, sapremo quale sarà la terapia corretta, quale potrà accettare, non accettare, quale sarà il dosaggio giusto di tutte le nostre terapie per quel paziente in quelle condizioni, per quella persona anche, in quella condizione. Io credo che, come dicevo, l'ascolto sia fondamentale. Io, quando dico sempre ai miei medici, se voi passate in un corridoio, affrettati perché andate a sentire, a avere una riunione, e un paziente nel corridoio vi fa un cenno con la mano per chiedere qualcosa, fermatevi. Fermatevi e ascoltatelo fino in fondo, perché è un suo diritto di parlare ai medici in maniera libera. Ed è un dovere del medico ascoltarlo. Noi medici siamo al servizio dei nostri pazienti e dobbiamo ascoltarlo, perché l'ascolto è, come dicevo prima, il futuro della nostra medicina. Ascoltare i pazienti è un dovere, perché è un diritto del paziente essere ascoltato. È un allargamento intellettuale di chi lo ascolta, del medico. Ed è soprattutto, a mio parere, una manifestazione d'amore per il malato. Grazie. 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 Grazie.